Il turismo nel periodo pasquale è andato molto bene, sia nella costa che nell'entroterra. Peraltro io posso anche dire, gestendo come confcommercio quattro musei nell'entroterra, abbiamo avuto un boom di presenze. Basti dire, sono Mondavio, l'oraco di Mondavio, 350 visitatori il giorno di Pasquetta, 200 eventi il giorno di Pasqua, 190 il sabato santo. Fossombrone, 295 ingressi alla chiesa di San Filippo, una cinquantina al museo, casa museo, quadreria Cesarini. A Pergola abbiamo riempito il giorno di Pasquetta, il numero massimo che noi accreditiamo, 230 visitatori. Urbino con l'attrazione di queste mostre dedicate a Bartolini, nella sala del Castellare, della nuova mostra dedicata alle coppie in due dine, le opere di Raffaello nel collegio Raffaello. Ovviamente il palazzo ducale di Urbino ha fatto una grande attrazione, quindi un boom di visitatori. Pesaro, 32 alberghi su 52 aperti, grazie anche al fatto che c'erano tanti eventi sportivi, anzi molti hanno dormito in Romagna. Gli alberghi erano pieni, così come anche i ristoranti. Quindi è un buon inizio di stagione, però io voglio anche ricordare che una volta si diceva chi viene per Pasqua viene anche per vedere poi le località e scegliere una vacanza. Oggi invece dobbiamo ammettere che il turismo, soprattutto il turismo dell'entroterra, ha un'autonomia rispetto al turismo balneare. Per cui chi è venuto è venuto per l'entroterra, è venuto per i nostri musei, per la nostra bellezza e per un turismo sostenibile che si ripercuoterà tutto l'anno grazie anche a Pesaro 2024.